Buon inizio di mattinata dalla redazione, un saluto a tutti voi, partiamo con il Tg del mattino dalla questione dei contratti istituzionali di sviluppo, perché ci sono anche sindaci rimasti scontenti, sono 32 quelli delusi dopo il recente incontro con l'amministratore di Invitalia Domenico Arcuri e con Gerardo Capozza, braccio destro e consulente del Premier Conte. Intanto emergono anche evidenti conflitti di interesse nella vicenda Ecomont, il servizio di Giovanni Minicozzi. I 32 sindaci dei comuni, al momento esclusi dai 220 milioni di finanziamento previsti dal contratto istituzionale di sviluppo, sono ancora di più amareggiati e irritati dopo l'ultimo incontro con Gerardo Capozza, consulente del Premier Giuseppe Conte e con l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, l'amico Mimmo, come ama chiamarlo il governatore Donato Toma. Secondo la ricostruzione riportata da alcuni sindaci presenti al vertice, Domenico Arcuri avrebbe denigrato con toni offensivi e con atteggiamenti arroganti sia i primi cittadini che chiedevano lumi sui criteri utilizzati per stilare la graduatoria dei progetti ammessi, sia la stampa che aveva riportato la poca trasparenza della scelta e i macroscopici conflitti di interessi riguardanti la società Ecomonte di Campitello Matese. Nell'occasione i sindaci hanno ricordato al dottor Domenico Arcuri che loro sono impegnati a H24 per 365 giorni all'anno a fronte di una indenità media di 700 euro al mese, a differenza delle centinaia di migliaia di euro percepiti da Capozza e da Arcuri e che anche i consulenti di Giuseppe Conte hanno il dovere di rispettare le leggi in vigore in materia di legalità e di trasparenza amministrativa. Quando alla stampa, che secondo loro sarebbe impegnata solo a diffondere polemiche strumentali, ci sembra opportuno rimarcare che è dovere di tutti i giornalisti raccontare la verità e sottolineare eventuali sperperi, illegalità o complitti di interesse nella gestione di risorse pubbliche. A proposito di complitti di interesse, risulta eclatante l'oscuro caso della società Ecomonte di Campitello Matese, esclusa lo scorso 19 marzo dal Tarmolise dal bando pubblico relativo ai 15 milioni di euro destinati all'area di crisi complessa della stessa Invitalia e riammessa invece da Arcuri, Capozza e dai ministeri nel programma del contratto istituzionale di sviluppo. A difendere la Ecomonte presso il Tarmolise era stato il consulente di Vincenzo Niro alla regione, l'avvocato Giacomo Papa. Un'altra strana consulenza venne concessa dal governatore Paolo Frattura alla consorte di uno dei soci dell'Ecomonte, si dice molto amica di Maria Olga Mogavero, da sei anni top manager della regione. Tale consulenza è tuttora in essere, pur con funzioni diverse da parte della signora beneficiaria. Ma non finisce qui, perché a differenza di quanto dichiarato nei giorni scorsi a Tarmolise dal governatore Donato Toma, sono stato componente del collegio sindacale della Ecomonte fino al 2015, ma ora non c'entro più niente con quella società, aveva detto il presidente, fondi autorevoli ci hanno segnalato che a tutt'oggi il depositario, ovvero consulente e commercialista della Ecomonte SRL e ancora e sempre lo studio Toma, attraverso un familiare diretto del governatore. Dunque la consulenza con la Ecomonte non si è mai interrotta. Questo accade nel condominio molise, mentre l'AD di Invitale Domenico Arcuri e il consulente di Giuseppe Conte, Gerardo Capozza, bacchettano i sindaci e la stampa che racconta la verità. Ora parliamo di un dato contenuto nel documento di programma del Comune di Campobasso all'interno del quale ci sono i dati sulla popolazione residente e dopo anni di abbandono dei residenti il fenomeno sembra essersi arrestato. Sentiamo. Fino a qualche anno fa il trend non prometteva nulla di buono e il lento spopolamento di Campobasso, che in un decennio ha perso quasi 10.000 abitanti, sembrava inarrestabile. I dati del 2018 invece segnano un'inaspettata inversione di marcia e il numero di residenti nel capoluogo è tornato a salire, anche se la popolazione resta per ora al di sotto dei 50.000 abitanti. All'inizio del nuovo millennio, oltre all'assenza di prospettive di lavoro, l'indicatore che aveva più inciso sul lento ma inesorabile abbandono della città era stata la cosiddetta bolla immobiliare. Il valore delle case, cioè con il passaggio della lira all'euro, aveva provocato una migrazione nei paesi della cintura. Ripalimosani, Mirabello, Campodipietra, Oratino, Ferrazzano. E a lasciare il capoluogo erano state soprattutto le coppie più giovani. Un fenomeno che a distanza di qualche anno, probabilmente di pari passo con un decremento secco del valore degli immobili, in alcuni casi anche del 50%, potrebbe essersi arrestato. I numeri del 2018, il dato emerge dal documento unico di programmazione 2020-2022 del comune di Campobasso, dicono che la popolazione residente è di 49.668 abitanti, 406 in più rispetto al 2017. Le donne, quasi 26.000, sono 2.000 in più rispetto agli uomini. La maggior parte degli abitanti, quasi la metà, 48,3%, resta di un'età compresa tra i 30 e i 64 anni, una popolazione per lo più matura, mentre la fascia più bassa è proprio quella rappresentata dai bambini tra 0 e 4 anni, appena il 3,3%. Invariato l'andamento negativo tra le nascite i decessi, il cui saldo è a favore di questi ultimi. Resta però da sottolineare l'inversione di tendenza che pone peraltro Campobasso, tra le poche città in Molise, ad aver recuperato popolazione residente. La sfida è quella di programmare azioni che diano speranza di futuro, soprattutto alle nuove generazioni, e di attrarre anche gente da fuori, per evitare che, da qui al prossimo decennio, l'età media dei cittadini che abitano nel capoluogo sia ancora di più avanzata. Per il Tg ci fermiamo qui, diamo uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo in edicola con la rassegna stampa. Cominciamo dal giornale del Molise, che parla di sanità, un atto per salvare la sanità. Il Comitato Santimoteo chiede un segnale alle istituzioni. Poi la crisi idrica rientra all'emergenza, individuata la causa dei disagi, ma la condotta resta fatiscente. A Campobasso il centro prelievi di Via Toscana riapre dal 1 settembre, poi settimo centenario della cattedrale di Larino, martedì, oggi il culmine degli eventi. Nella sanità la CGL serve un'azione collettiva e condivisa. Siamo ai quotidiani locali, vediamo la prima pagina di Primo Piano che apre sulle liste d'attesa. L'IOP va al TAR, l'associazione che raggruppa le strutture private, impugna il decreto del commissario. Nel mirino dell'Avvocato Di Pardo il blocco delle prenotazioni al raggiungimento dei budget, l'ASREM affida la difesa invece a Nunzio Luciano, consigliere di Toma e invece stamattina la seduta monotematica in Via 4 novembre, previsti sit-in di forum e comitati, il pro Santimoteo scrive a Palazzo d'Aimmo, da Pollonio invita Giulia Grillo a Isernia. Intanto a Benafro inaugurata la residenza sanitaria assistenziale, nessuna speranza per il pronto soccorso. Sindaco e cittadini chiedono la riattivazione del reparto di emergenza, scettico sosto dipende dal piano operativo più in basso. I soldi dello Stato per salvare una sola impresa, Ricci così il sistema delle costruzioni collassa, parla il patron di Europea 92, Bacchetta Di Maio, serve una soluzione per l'intero indotto, se non sono in grado vadano a casa. Nel taglio basso lo sport con l'amichevole del campo basso contro la Juve Stavia, il primo lupo stagionale, calcio d'inizio alle 17.30, esordio inamichevole per il gruppo di Cudini, il Futsal Sporting Venafro, un altro gaucho inorganico, arriva in laterale Quancruz e nella palla a volo Europea 92 c'è il calendario, la Big Cerignola all'esordio. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano, anche qui la sanità in evidenza, sia nel titolo di apertura, una cura per la sanità seduta monotematica in Consiglio regionale, questa mattina a Palazzo d'Aimmo anche comitati e associazioni, assenti commissari ad acta Giustini e Grossi e di spalla il Santissimo Rosario cambia volto e si trasforma in residenza sanitaria assistita. Consiglio comunale a campo basso, duppe linee di mandato passano in aula ma solo con i voti della maggioranza e poi in taglio basso la ZES, le zone in via di sviluppo, per lo sviluppo via libera dal Governo nazionale, sarà uno strumento per lo sviluppo del territorio di spalla agli operai forestali della regione Molise futuro a tinte fosche e spettanze a rischio nel taglio basso allo sport. L'amichevole del campo basso contro la Juve Stabbia a Rivisondoli, Summit per il mercato con il patron di Girolamo da Termoli e poi in eccellenza Acli, campo basso e campo di Pietro, il campo di Pietro a colpo Turai dal Boiano. Futuro Molise apre con la cronaca, guida senza documenti e dai carabinieri identità falsa, denunciato un trentenne Campania e il prefetto di Sernia invece emette un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino bengalese, segnalato alla prefettura giovane di Agnone, trovato in possesso di Ascic e poi per l'estate sicura, weekend di controlli anche a Termoli, denunciato uno spacciatore, multate tre parcheggiatrici abusive. Cominciamo dal Corriere della Sera, si parla naturalmente con grande evidenza della morte dei funerali del giovane carabiniere che si sono svolti a Somma Vesuviana, hanno ucciso, non sono pentiti, il giudice sui due americani arrestati, il generale Nistri, le polemiche sono come coltellate, folla e lacrime ai funerali del carabiniere, la ricostruzione della notte, i contatti con il pusher prima della chiamata al 112, la foto drammatica della moglie Rosa Maria, la vedova sorretta dall'arcivescovo Marcianò, ordinario militare per l'Italia, le parole del generale Nistri, evitiamo la dodicesima coltellata a Cercello Rego e poi la politica interna, attenzione per un audio tra Salvini e Di Maio, sull'autonomia nuova lite, Lega 5 Stelle, vediamo la prima pagina della Repubblica, è sulla frase del comandante dell'arma, Nistri basta coltellate ma il caso non è chiuso, il comandante dei carabinieri è morto per tutelare i diritti di tutti, folla ai funerali di Cercello Rega, un minuto di silenzio sui canali Rai, quello che non torna nella ricostruzione del delitto e poi è anche qui la foto della folla che ha assistito, che ha voluto rendere omaggio al giovane carabiniere di Somma Vesuviana. Nel taglio basso invece si parla del viaggio, dell'esperienza dell'astronauta parmitano, più deserti meno ghiacciai, dallo spazio la terra, fa paura dice l'astrofisico. Andiamo a vedere la prima pagina del mattino quotidiano di Napoli che naturalmente anche qui dedica, soprattutto sul giornale napoletano, dedica l'apertura al funerale, Mario lo sfogo della vedova, tutelate noi non i killer ai funerali di Cercello, l'appello a Salvini, quei due ragazzi sono dei viziati, duro il comandante Nistri, basta polemiche, sono la dodicesima coltellata e la foto del feretro del ragazzo del sud, l'arma, gli amori e insigne la maglia del Napoli sulla bara, la vita spezzata, appunto sulla bara del giovane carabiniere e poi il testo lesto in chiesa dalla vedova, noi mogli di carabinieri e quei sacrifici condivisi, un testo che gira su Facebook, su internet, è una lettera, un modello che in altre circostanze è stato utilizzato per appunto rivendicare questo status di compagne dei servitori dello Stato. Andiamo al quotidiano di Roma, il messaggero, l'urlo della vedova tutelate noi, ai funerali di Cercello, l'appello a Salvini, lo Stato difende agli onesti, non quegli assassini viziati, l'affondo del comandante dell'arma, basta polemica, evitiamo la dodicesima coltellata, delitto in 4 minuti, le mosse del killer e come vedremo tutte le prime pagine dei giornali sono dedicate a questa vicenda di Cronaca che ha commosso il paese. Eroe e chi serve, titolo avvenire, folla ai funerali, l'ordinario militare Marcianò, i politici prendano esempio, il generale Nistri, evitiamo la dodicesima coltellata, Conte un reato, la benda, a Somma Vesuviana la preghiera della vedova del carabiniere, da precisare l'intera dinamica e qui la giovane, altrettanto giovane naturalmente Maria che segue e sorregge la bara portata a spalla prima dell'ingresso nella cattedrale di Somma Vesuviana. De Giorgi vite da salvare, ora le navi tornino in mare, dalla Gregoretti sono stati fatti sbarcare ad Augusta, 16 minorenni, la vicenda che ricorda molto da vicino la Diciotti e che sta diciamo riportando in cronaca le polemiche sui migranti. Il manifesto titola invece Arma a doppio taglio, con chiaro riferimento a quello che poi è accaduto nella caserma a Roma, a Somma Vesuviana ai funerali di Cercello Rega, il generale Larma Nistri tenta di smorzare le polemiche sulla foto del californiano bendato in una caserma dopo il fermo a Roma ai magistrati di magistratura democratica e area che sono le correnti del CSM, violati i principi costituzionali e sull'inchiesta ancora, dell'ANM scusate, e sull'inchiesta ancora molti punti oscuri. La politica interna viene sintetizzata invece con quest'altro titolo, Movimento 5 Stelle e Lega, comiche finali, ma è tutto finto, TAV, flat tax, autonomia e giustizia e giallo-verdi divisi ma inseparabili. Titola il quotidiano comunista, infine per questa prima schermata di giornali vediamo la prima pagina del quotidiano che porta il funerale con la vicenda di cronaca sul cassettone, misteri sul delitto Rega e il blitz del collega un'ora prima e il pusher libero e poi i due amanti sul TAV sono Berlusconi e Salvini, farà votare il testo di Salvini per salvare l'opera inutile e rieccoli la sintesi del fatto quotidiano, il 7 agosto le emozioni sul Torino-Lione e quella dei 5 Stelle ha più voti. Rapidamente vi faccio vedere i titoli delle altre testate, il tempo, non dategli la dodicesima coltellata, ancora il quotidiano romano, bendate Conte straparla e il riferimento, questo fotomontaggio è alla dichiarazione di Conte che abbiamo apprezzato sul secolo, il premier complica il lavoro degli inquirenti sui delinquenti che hanno ammazzato il carabiniere Cercello e poi il quotidiano di Belpietro, la verità, parla la prima pentita di Bibbiano, un'apertura totalmente diversa su una vicenda che sta appassionato soprattutto sui social, pensavano solo a togliere i bambini, il giudice onorario di Bologna, denunciai il sistema e mi cacciarono, tra le calunnie i due americani violenti e fuori controllo è il titolo sull'omicidio del carabiniere, il sole 24 ore sceglie ovviamente una notizia che riguarda l'economia, risparmio gestito, commissioni sotto tiro, gli investimenti, i costi applicati dalle società di investimento sono slegate dai rendimenti dopo il 2018 pessimo, il primo semestre del 2019 tra i migliori della storia. Chiudiamo la rassegna di oggi come sempre con le notizie sportive e la Gazzetta dello Sport mette in primo piano una foto da tabloid londinese con Cristiano Ronaldo che ha ricevuto il premio marca, il premio leggenda da marca, uno dei quotidiani sportivi più importanti nella foto però è ritratto con un avvenente, diciamo così, Giorginia, la sua compagna, 25enne, Juve è più forte, la Champions arriverà, sono sicuro, ammiro Buffon con Casillas, è il miglior portiere al mondo, ancora il mercato però subito parliamo dell'Inter, Mossa Marotta, offerti 15 milioni, Dzeko si avvicina, l'altra sponda milanese, quella rossonera, doppio sbarco, Leao e Leo durante prime firme ma poi nel cassettone subito boom, è il calendario che è stato diramato, sorteggiato ieri, Sarri affronta il suo Napoli la prima giornata, mette di fronte veramente Fiorentina-Napoli e Roma-Genoa sono le partite di cartello, la Juventus fuori casa a Parma e poi c'è un Sampdoria-Lazio diciamo così in chiave alta per la classifica, la Juventus-Napoli è in programma al settimo turno e la Gazzetta chiude in fondo alla pagina ancora con una notizia di mercato, Di Bala in vendita, Lukaku a casa, sarà scambio, ci sono degli interessamenti, il commento di Nedved da parte bianconera e con questa notizia ci fermiamo, vi diamo appuntamento al Tg delle 14, grazie a Daniele Ricciuto che è stato con noi oggi in regia, grazie a voi che ci avete seguito da casa dalla redazione, l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti! Grazie.